ragazzi bentornati sul mio canale oggi è una giornata piovosa non è bello per niente il tempo e vi faccio vedere i miei due nuovi acquisti per il terreno ora andremo a scaricarli perché sono andate a prenderlo entrambi gli acquisti con il mio rimorchio per la macchina e ho caricati su e ora andiamo a scaricarli con il trattore quindi seguitemi mi raccomando perché quando ci sarà una stagione migliore vi farò vedere tutto in azione andiamo a Grazie a tutti. 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 Allora ragazzi, il primo degli attrezzi che ho comprato e il secondo che ho scaricato è questa falciatrice gaspardo. Ovviamente è attrezzatura adattata perché altrimenti l'uovo costerebbe tantissimo. Ha una barra falciante alta 1,80 m perché praticamente è alta come me. E niente, questo mi servirà per tagliare l'erba da farci il fieno. Il secondo attrezzo invece è questo simpatico aratro voltoorecchio, monovomere, però ha i suoi vomerini piccoli e questo ovviamente servirà per arare il terreno. Con uno dei due vomeri questo qua fai la prima parte di aratura, poi lo giri dall'altra parte, questo vomer qua va sotto e puoi fare l'aratura in senso contrario. Ovviamente avete visto il video dell'aratura precedente, quello era fatto con solo un aratro monovomere senza che fosse voltoorecchio, quindi dovevo fare la prima andata, tornare dietro a retromarcia e poi di nuovo avanti. Questo mi farà risparmiare molto tempo. Ovviamente anche questo è un aratro datato, sempre per lo stesso motivo di prima e niente, basta. Ragazzi lo so che questo non è stato un video super mega stratosferico, però ci tenevo a farvi vedere i nuovi acquisti per il mio campo. Spero che almeno vi sia piaciuto, quindi spero vi abbiate anche apprezzato perché non so se l'avete visto, ma abbiamo scaricato io e mio padre l'attrezzatura che stava piovendo un bel po' e ovviamente quando abbiamo finito di scaricare ha finito di piovere e questo l'ha preso in giro. Bene ragazzi, quindi spero vi sia piaciuto il video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi video, vi farò vedere come funzionano quegli attrezzi. Ciao ragazzi! Ciao!